La Compagnia della Guardia di Finanza di Lauria ha scoperto una società di capitali con sede in Lauria, attiva nel campo delle costruzioni, che ha omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi degli anni 2009, 2010 e 2011, evitando di dichiarare all'erario circa 750 mila euro. I finanzieri guidati dal tenente Marco Cappetta hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Lago Negro ed hanno così sottratto alla disponibilità dell'impresa quattro terreni e un fabbricato, siti in Lauria, e tre conti correnti bancari. L'omessa dichiarazione dei redditi da parte del rappresentante legale della società avrebbe pertanto consentito di evadere l'IRES e l'IVA per un totale di circa 185 mila euro. Ciò ha comportato una denuncia penale per la violazione del decreto legislativo numero 74-2000. Sulla base di tali presupposti, i militari della Compagnia Guardia di Finanza di Lauria sono direttamente intervenuti sul patrimonio immobiliare dell'impresa, assicurando all'erario il valore corrispondente alla somma occultata al fisco. Il sequestro, posto in essere dalla Guardia di Finanza di Lauria, è per equivalente ed è stato reso possibile grazie alla normativa che prevede la possibilità di colpire i beni economici, mobili ed immobili, nella disponibilità degli indagati, per reati tributari. In questo modo vengono assicurati allo Stato beni materiali, soprattutto immobili, al fine di evitare che gli evasori fiscali sfugano le pretese del fisco occultando le liquidità. Si tratta del primo sequestro di questo genere emesso per reati tributari dal Tribunale di Lago Negro relativamente alla zona di competenza della Basilicata ed è il secondo sequestro realizzato dalla Compagnia Lauria, dopo quello eseguito in Abruzzo nel mese di agosto, a seguito dell'operazione Abruzzo-Basilicata Ghost to Ghost.